bella a tutti ragazzi qui è giuda360 benvenuti nel mio canale come puoi vedere siamo su south park speak it through perché finalmente sono riuscito ad ottenere il gioco in versione italiana perché il gioco ce l'ho già da un paio di giorni solo che era tutto in inglese quindi non capiva assolutamente niente e ho giocato ci ho giocato pochissimo perché perché ho voluto aspettare che l'avessi in italiano così almeno potevo godermelo al meglio quindi iniziamo la partita per la prima volta insieme a voi in lingua italiana anche se come ho detto prima ci ho giocato ci ho giocato pochissimo ho fatto 5 6 minuti di gioco il tempo di creare il personaggio e fare altre cavolate varie quindi non so assolutamente niente ok vediamo i sottotitoli perché finalmente volentieri che se si fai attacchatiä da dei morti drows oltre di larnia D'acqua di trattato, come i l'imansi pregollano il loro di umano per salvare bellemi un loro king, un loro king, solo segno come le grande wizard rollo che la matanta è una grande storia qui una volta che i suoi tonti nel settembre con la sottotitoli del grande wizard che non so fu riuscate so protettare i suoi seguiri dell'uomo i ori d'amore continuercono le attaccare sono i si stucia la riuscate la vita di un minuto che si subito i tori concentrii la maldeta Colui che controlla il bastone controlla l'intero universo. Fantastico! Ok, seleziono l'autorità di pelle. Ok, seleziono la capigliatura. Vediamo un po' qualche capigliatura ci sono. L'idea è di farne una semplice. Ok, apriamo qualcuno. No, capelli corti naturalmente. Vediamo un po'. Oppure magari facciamo questo qui. Però li facciamo neri e li vediamo un po'. Sì, dai, facciamo così, dai. Successivo. La giacca. Vediamo un po' questa. Con una sciarpa. Oppure con una tuta. Ok, dai, mettiamo giù una tuta rossa. È un po'. Sì, bello. Il pantalone, ok, lo lasciamo così. Successivo. Ok, no. I punti in faccia. È proprio questa. Le macchie in faccia, no. I puntini, no. Ok, no. Io la faccio normale. Successivo. Seleziono gli occhiali. Io direi... Eh... Vediamo un po'. Sono gli occhiali più piccoli. Sono tipo la metà degli occhi. Perché sono tutti orrendi, ma ne scegliamo uno. E abbiamo questo qua. Ma sì, dai. Mettiamo questo qui con le lenti... Le lenti di... No, hanno. Questo qui è la... La pacchetta, beh, sia nera. Ok, successivo. Ho completato. Perfetto. Se vuoi che questo è un oggetto per DOV, ma non vuoi che ho... Eh, abbiamo anche il tempo di leggere... South Park. Venduta. No lo cercheranno qui. Sì. Eh, si è vestito, no? Eh, mi sa di no. Non lo ricorda. Non lo ricorda. Non lo ricorda. È buono, è buono che non lo ricorda. Eh... Sweetie? Vi vogliamo di avere molti divertenti qui. Perché non puoi andare a fare alcuni amici? Sì. Esci a giocare. Andiamo. Con i bambini normali. Sì. Abbiamo lasciato un po' di soldi su un piano della cucina. Grande mamma. Sì. Sì. Siamo anche te. Non si apre niente. Sono io che non so aprirli. Perché non si apre niente. Vediamo se qui si è avuto qualcosa. Non si apre niente. Andiamo un po' nell'armale. Eh, così. Mi ricordavo che si apriva qua. Con tanti figurina da baseball. Prendiamo tutto. Sì, sì. Prendiamo tutto. Non si butta niente. Non si butta via niente. Vediamo qui il panarello, il pesciolino. Ok, usciamo. Prima di scendere. Volevo andare a vedere un po' le altre camere. Questa è ben chiusa. Questa qui dovrebbe essere il bagno. Ok. Tutto aperto. Vecchia spugna. Tutto arroginito. Ok. Vediamo tutto. Sì, sì. 10 centesimi. Prendiamo tutto. Dai, dai, dai. Qui non c'è niente. Se non possiamo uscire. La porta è qui. Ok. Ora possiamo andare giù. Giù quelle scale. Ok, guarda come sono le scale. Fantastico. Ok, così qui. E' mio padre. Aspetta che vi faccio un po', fatti qualche amico. Sì, sì, un attimo che... Vieni a vedere un poco... Che cosa avete nascosto in casa. Vediamo un po'. Ok, qui dovrebbe essere la cucina che... Mia madre mi aveva detto che... Ok, qui non si apre. Che... Ha lasciato qualcosa in cucina, quindi andiamolo a prendere. Ho messo 50 centesimi sul... Sulla cucina, qui sul quadro della cucina. Eccoli qui, 50 centesimi. Ah, sono 2 dollari. Perfetto. Grande, veramente. Avevo capito 50. Occhio nero. Pozione della salute. Questa. Non era una richiesta, non era una richiesta. Ora vieni fuori e fatti i miei amici. Ok, già già già. Ci hanno cacciati fuori di casa. Perfetto. Vediamo se ci fanno entrare. No, qui sono tanto... Ok, ok. Allora... Premi Jay per acquisto di chiaro delle queste. Jay. C'è il nuovo venino in casa. Tu e i tuoi genitori vi siete appena trasferiti a South Park. Loro vogliono che tu esca e inizi a farti degli amici. Nuovi obiettivi. Esce e trova dei mobili con cui fare amicizia. Ok. Settazione affettiva single. Valore netto. 6 dollari. Amici. Zero. E dove si? E quindi sono zero amici. Ok, vediamo qui se il garage si apre. Perfetto. Vediamo qua. Potremmo disunire. Vediamo se c'è qualcosa. Eh sì. Perfetto. L'allora è cinquanta e un'altra parrucca mi sembra. Io non so che cosa ce ne facciamo di tutte queste cose, ma... Potremmo andare avanti. Perinato il mio fratello, eh. Perfetto. 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 E non sono in giro. E non sono in giro. Sì. 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 Non posso saltare più in giro. Sì. Arrivo arrivo. Fai clic sul pulsante sinistra su un nemico per attaccarlo. Eccola attacca attacca. Attacca attacca. Attacca attacca. Sto attaccando. Fai clic sul pulsante sinistra su un nemico per attaccarlo. Sto facendo. Sì. 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 Oh dai! Eh, mi scelta se non va. Ah, finalmente! Vente! Vente! Non ho capito che aveva una potina di salute! Venti! 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 Venti, che poveroso! Sono un nuovo amico! Sì! Butt. Vai! Ciao a tutti, c'è un nuovo bambino che gioca che gioca non noi ed è con noi ed è i miei amici così nessuno se la può prendere con lui, perfetto. Ora che siamo amici dobbiamo parlare con il rimasto, la parola nel tuo arrivo. Ok andiamo. E' tutto bloccato, se lo vuoi porre, anziché camminare te lo vedo, ma io sono senso, vabbè dai, vi piaccio camminare. Il grande mago. Ok, per cambiare la difficoltà, ok no no, ci vediamo la difficoltà normale mi sembra, va benissimo così. Qui siamo nella casa del grande mago, signora Cartman, un attimo, pizzetto da Cartman al malvagio, chiave del garage, si prendiamo. Segniamo la televisione, no signora, la televisione non la puoi vedere. Ok. Fatti caricamenti però. Wow. Koopa Keep. Guarda io di livello 14, cioè io sono a livello 0 mi sembra di aver visto prima nel menù. Enormi stalle. Scott Malkinson, che ha il potere del diabete. Scott. Il potere del diabete. E qui, ovviamente, è la meravigliosa e bellissima princesa Keenie. La meravigliosa madonna di tutto il kingdom. Quindi ci penso a Kenie. Non chiedere perché Keenie aveva dovuto essere una prima, ultimamente mi si è presa così. Ok, parla con Cartman. Ragazzi, direi che per questo video è tutto, nel prossimo video parleremo con Cartman e vediamo che cosa ha da dirci. Quindi per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace se non avete ancora fatto. Se non lo avete ancora fatto, vi invito a lasciare un mi piace. Se non lo avete ancora fatto, vi invito al mio canale. Noi ci vediamo con un prossimo video. Che sarà sicuramente o South Park oppure Dead Nation. Perché ho registrato tantissimi episodi che devo farvi vedere. Quindi noi ci vediamo con un prossimo video.